Ok, partiti! Dal gruppo Indian Pachah che provò subito a portarsi in vantaggio, seguito da Capitan Jack, i due nettamente più brillanti rispetto a Part of Me che adesso avanza a largo all'interno Caffaggio che si fa sotto, King Nelson in Open Dream a ridosso, a precedere Adragon, Shukala all'interno, poi Blue Petreus, più dietro c'è Dan e Power nelle posizioni di retroguardia, anche lo stesso Cernobbio che ha colto un break lento. Nel frattempo siamo davanti con Indian Paciocchi, Cadenza su Capitan Jack, Caffaggio, Parton Me e King Nelson il terzetto che segue, Shukala all'osteccato sul favorito Open Dream, Adragon a ridosso, insieme a Blue Petreus su Existence, Capocaccia, Cernobbio e Dan e Power. Queste sono le posizioni con il gruppo ancora raccolto che sta colpettando la piegata che mette in rete d'arrivo, sempre Indian Paciocchi in vantaggio, al secondo posto Capitan Jack in bianco-nero, all'interno Caffaggio in giubba tutta gialla, all'esterno con il cap giallo invece Parton Me che anticipa il grigio Open Dream e che ha in scia a Blue Petreus con le maniche Fuchsia, poi King Nelson in mezzo al gruppo con il cap verde seguito da Shukala, giubba azzurra e cap giallo. Si avvicina anche in bianco-rosso Adragon con la giubba a scacchi Existence, poi Capocaccia, Dan e Power all'argo di tutti, Cernobbio per via interne. E sempre Indian Paciocchi in vantaggio sul gruppo dei cattivi che vede all'interno scattare Shukala, ancora più verso l'interno ci prova Cernobbio, all'argo King Nelson che si fa sotto seguito da Adragon, spunta anche Existence. E' passato Shukala definitivamente su King Nelson, Existence, Adragon e Cernobbio, questi 5 letto con Shukala che ancora davanti su Existence che lo va ad attaccare, Existence che attacca Shukala, King Nelson all'argo nell'ultimo tratto, Existence che viene a vincere.